Se siete appassionati di calcio e di cripto vi sto per dare una notizia che sicuramente vi gaserà tantissimo. Esiste una piattaforma, si chiama Sorair, dove è possibile andare a giocare al fantacalcio, andare a schierare dei giocatori, competere nelle varie leghe e vincere degli interessantissimi premi in cripto. La cosa ancora più interessante è che i giocatori che si può andare a schierare, acquistare o vendere esattamente come si fa nel fantacalcio sono di fatto degli NFT e in quanto tali la compravendita degli stessi ha un suo prezzo di mercato, segue un prezzo di mercato. Quindi c'è una duplice forma di investimento. Da un lato nell'acquistare questi giocatori che sono delle carte, adesso andremo a vedere meglio come funziona, per poi puntare a rivenderli ad un prezzo più alto e in seconda battuta si può andare a partecipare alle leghe e vincere migliaia di dollari in cripto di premi. Nel video di oggi vi spiego quanto e come si può guadagnare utilizzando Sorair e ovviamente come funziona la piattaforma. Facciamo un tutorial bello dettagliato anche per chi non sa niente di fantacalcio. Piccola parentesi, io sono completamente estraneo al mondo del calcio e non ho mai fatto un fantacalcio in vita mia, ma nonostante questo lo trovo molto interessante e veramente un'ottima opportunità. Quindi vale la pena approfondirlo, tenetevi forte e andiamo a vedere questa sorta di investimento alternativo. Seguitemi! Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi, ve l'ho detto, parliamo di questa cosa un po' alternativa che permette di monetizzare, grazie al mondo delle cripto, la propria passione per il calcio, che sono sicuro interesserà a tanti di voi. Per iniziare non è necessario fare per forza un investimento iniziale, perché se utilizzate il mio referral link in descrizione, al momento della registrazione avrete 10 carte comuni, con cui comunque si può già iniziare a fare una squadra, regalati. E in più, dopo che acquisterete 5 carte di qualsiasi tipo, avrete in regalo una rara. E le rare valgono anche parecchio, come vedremo tra poco. In ogni caso, si tratta di una piattaforma di fantacalcio tokenizzato sotto forma di NFT. Cosa vuol dire? Allora, gli NFT sono i non-fungible token, ne abbiamo già parlato. Immaginatevi che è un token che va a rappresentare in maniera univoca un asset, un bene, una qualsiasi cosa. In questo caso, un giocatore. Ci sono diverse categorie di giocatori che vanno per rarità. Ci sono quelli comuni a tiratura illimitata e poi ci sono diversi gradi di rarità a tiratura invece limitata. E gli NFT permettono di andare a rappresentare su blockchain esattamente queste caratteristiche. La piattaforma Sorare è licenziata dai club calcistici. Ora vi faccio vedere che al momento conta 135 club che hanno autorizzato la piattaforma a utilizzare i loro sponsor, il nome della squadra, il nome dei calciatori. E neanche a farlo apposta, proprio oggi, 5 squadre italiane della Serie A sono state aggiunte al listino delle carte dei calciatori disponibili sulla piattaforma. Il fatto che i vari calciatori siano rappresentati dagli NFT permette innanzitutto di acquistarli e venderli in maniera libera direttamente dal marketplace di Sorare. Quindi in crypto io posso acquistare qualsiasi calciatore e rivenderlo. C'è un marketplace che permette di metterli all'asta, fare offerte e insomma è un mercato che di fatto permette di andare a investire su una squadra, un calciatore, acquistandolo a un prezzo basso e vendendolo a un prezzo più alto. Ovviamente poi le carte acquisiscono valore in base innanzitutto alla rarità, ma anche in base ovviamente al successo che il calciatore ha nella stagione corrente. Perché di fatto l'obiettivo finale di questa piattaforma è andare a schierare una tua squadra per vincere le leghe e pertanto il calciatore che otterrà punteggi maggiori andrà a rendere una squadra più forte. Ma a questo ci arriviamo. Come si fa a registrarsi? Allora è estremamente semplice, io l'ho già fatto, però se voi partite da zero basta che facciate iscriviti. Ve l'ho detto, vi lascio il mio referral link in descrizione che vi conviene usarlo perché dà diritto comunque ad alcuni benefit. È sufficiente mettere un'email, un nome a caso e una password, basta, non c'è KYC e non c'è nient'altro. Anche perché poi le compravendite dei giocatori avvengono o tramite wallet Ethereum oppure tramite carta di credito. È estremamente comodo se si utilizza MetaMask perché direttamente dal proprio wallet si può andare a spendere Ether per andare ad acquistare e rivendere poi i calciatori. Una volta fatta la registrazione, ci vogliono circa 40 secondi, verrete guidati nella procedura di onboarding, ovvero nel muovere i primi passi. C'è un piccolo tutorialino che è veramente autoesplicativo. Vi fa creare il vostro club, quindi andare a decidere il nome della squadra, banalmente, cosa che si può modificare anche a posteriori. Andare a creare la nostra prima squadra e a schierarla nella Lega. Adesso vi faccio vedere molto meglio come si fa perché sono tutte cose che, ripeto, ve le fa vedere all'inizio ma potete modificarle in seguito. Ognuno di questi obiettivi, quando viene completato, come vi ho detto prima, vi regala delle carte per un totale di 10. Una volta che avete terminato l'onboarding potete andare a esplorare un po' il mondo di gioco. L'obiettivo è andare a schierare una o più squadre per vincere le leghe, classico fantacalcio. Ci sono quattro tipologie di leghe visibili all'inizio, poi ce ne sono altre anche per zona geografica, insomma. Adesso vi spiego meglio come funziona. Abbiamo la Starter League Rookie che è quella per i principianti, laddove è possibile andare a registrare una squadra di qualsiasi livello, ok? Le leghe vanno o per zona geografica, quindi la leghe europea, la lega asiatica e così via, oppure ci sono quelle per livello. Ovvero abbiamo questa Starter che vi ho detto prima che è aperta a tutti. Poi abbiamo la Global All Star che è divisa in quattro divisioni e ogni divisione ha, come vedete, dei requisiti particolari. La divisione 4 è aperta a tutti, la divisione 3 richiede tre carte rare, la divisione 2 tre carte super rare e la divisione 1 tre carte uniche. Ovviamente, come avrete immaginato, la rara vale meno della super rara che vale meno della unica. Sono i diversi livelli di rarità e quindi di valore della carta di un giocatore. Per andare a schierare la squadra, vi faccio vedere con la Starter, dovete scegliere un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un extra. Insomma, potete scegliere voi un po' che formazione andare a mettere giù. Quindi, selezionando, vedete, ognuno di questi spazi vi fa vedere le carte che avete che sono adattabili a quel ruolo. Quindi, portiere, io ne ho uno solo e non ho molta scelta. Difensore anche, queste sono le carte che ho ricevuto in regalo per il mio sign up. Poi, centrocampista, posso scegliere. Adesso vediamo meglio come funzionano i punteggi. Io scelgo quello col punteggio medio delle ultime 5 partite più alto e c'è anche un più 5% che sono dei bonus che si possono accumulare sui calciatori. Vi spiego dopo come. Attaccante, poca scelta e come extra ho solo lui da scegliere. Poi, si può scegliere un capitano, ma deve essere una carta rara. Quindi, nel mio caso, non posso scegliere un capitano. Il capitano avrebbe ottenuto, come avete visto, immagino il 20% di performance extra. Quindi, confermo e la mia squadra è stata schierata. Una volta schierata la squadra, quando si giocano poi le partite, alla fine viene assegnato il punteggio a ogni giocatore, esattamente come nel fantacalcio. Alla fine della giornata calcistica viene fatto poi il punteggio complessivo di tutte le squadre. Vengono classificate le squadre in base a quanti punti ottengono complessivamente e vengono assegnati i premi in base alle posizioni in classifica. Come vedete, si può visualizzare il monte premi della Rookie League, che è questa. Ci sono al momento 14.000 partecipanti e il primo, il secondo e il terzo ottengono delle carte rare. Dal quarto fino al 10% ottengono una comune e dal 10 al 50 un'altra comune però di un rango più basso, dal 50 al 100 un'altra comune di un rango ancora più basso. Quindi c'è un premio per tutti, ma ovviamente meglio ci si classifica e più è alto il premio. È possibile andare a formare anche più squadre per partecipare in parallelo a più leghe. Noi nell'esempio abbiamo appena formato una squadra starter, possiamo andare anche a schierare una squadra nella Global All Star nella divisione 4, perché per le altre sono richieste delle carte rare. In realtà anche nella divisione 4, se noi proviamo a schierare la squadra, non ce lo fa fare, perché come vedete al massimo si può mettere una carta comune. Quindi i poveracci come me non possono accedere neanche alla divisione 4. Occorre andare a formare una squadra con delle carte di livello più alto. Tra l'altro potete anche vedere che c'è una penalità, perché se si va a giocare nelle leghe di livello più alto con delle carte scarse, quindi delle carte comuni, queste ultime hanno una penalità che di fatto fanno sì che ottengano meno punti alla fine delle partite. Per andare ad acquistare delle altre carte magari un po' più forti e per poter partecipare quindi a queste leghe, dobbiamo andare sul mercato carte, ok? Guardate, qua in sostanza sono visibili tutte le carte che sono in vendita in questo momento. Le possiamo ordinare per prezzo, aggiunti di recente o termina a breve, perché sono delle aste che hanno di fatto una scadenza temporale. I colori delle carte ne determinano la rarità. Quelle rosse in particolare sono le carte rare, come vedete. Poi abbiamo le super rare che sono blu, ok? E hanno una tiratura di 10, mentre le rare hanno una tiratura di 100, mentre le uniche sono di colore marrone e hanno una tiratura di un pezzo. Come vedete il valore è notevolmente più alto, cresce con la rarità. E questa è una prima componente del valore della carta stessa. Non è l'unica perché se voi andate a selezionare un qualsiasi calciatore, vedete che ha anche delle statistiche. Queste statistiche di fatto fanno sì che abbia più o meno valore in quanto il giocatore è più o meno forte. Ad esempio, questo nelle ultime 5 partite, il 7 marzo non ha giocato. Il 21 marzo, 5, 11 e 18 aprile, vedete che ha avuto un punteggio di 100, 156 e 53. Viene fatto un punteggio medio che è 77 ed è rappresentato vicino al nome del giocatore per dare un'idea, quando lo si schiera, di com'è il suo punteggio medio. Poi, qui abbiamo un bonus scarsità, non un malus, perché abbiamo un più 40%, scusate, dovuto al fatto che è una carta unica. Quindi se ottiene a fine partita un punteggio di 100, andrà a ottenere 145. Questo va a bustare parecchio il risultato della squadra. L'altro bonus che vedete, più 5 là in alto, che c'era anche prima, è perché è una carta di questa stagione. Ogni stagione vengono create nuove carte. Come vedete, questa è 2020-2021 e quindi ha il bonus più 5 della stagione corrente. Il secondo bonus che vedete, abbiate pazienza, ma ho dovuto cambiare carta perché l'ultima non ce l'aveva, è il bonus esperienza. I calciatori, infatti, possono anche ottenere diversi punti esperienza e quindi salire di livello andando a giocare partite, quindi se li schierate nelle squadre o se li allenate. Ci arriviamo tra poco. La cosa che vi deve interessare è che, vedete, con un tot di punti esperienza si sale di livello e per ogni livello c'è un più 0,5% di bonus fino ad arrivare a un hard cap che è il livello 20. Quindi questo è per bustare ancora un po' il punteggio del giocatore stesso. Qui sono andato a prendere, già che ci sono ve lo faccio vedere, sono andato sul calendario delle vecchie partite giocate dove potete vedere in sostanza le classifiche e se voi andate a cliccare su una squadra vedete i suoi giocatori e vedete molto spesso sono giocatori che non sono neanche messi all'asta, si può solo fare un'offerta diretta perché comunque si parla di prezzi molto alti perché magari sono giocatori oltre a essere unici di livello molto alto e quindi veramente c'è un mercato gigantesco per queste carte. Non me lo immaginavo neanch'io. Tornando a noi vi ho parlato di allenare i giocatori. Come si fa? Allora tornando alle nostre leghe, quindi gioca e alla giornata attuale qua sotto vedete che abbiamo special training e special weekly. Special weekly in realtà ci sono delle sfide settimanali diciamo però servono delle carte vedete di un livello più alto quindi io non lo posso fare. In ogni caso io vado a registrare qui dentro una squadra e di nuovo vengono fatte delle classifiche in base ad alcuni specifici parametri settimana per settimana e anche qui ci sono dei premi. Tra poco vi faccio vedere poi anche quanto si può andare a vincere a guadagnare giocando le leghe. Mentre special training semplicemente li metti i giocatori che hai inutilizzati li puoi andare a mettere in allenamento e fargli guadagnare esperienza. Non c'è nessun monte premi ma guadagnano dell'esperienza e salgono di livello in modo che le volte successive che li si schiera sono più forti. Ora vediamo quali sono i premi quindi quanto si può guadagnare. Nella rookie league, quella da principianti, come vi ho fatto vedere prima non ci sono altri premi rispetto alle carte stesse quindi serve proprio per i principianti per magari andare a guadagnare qualche carta in più. Al contrario, nella global all star ci sono dei premi che variano per divisione. Come vedete la divisione 4, che è quella un po' più facile, più abbordabile ecco perché non ha requisiti particolari, ha queste tipologie di premi. Se otteniamo un punteggio maggiore di 205 a prescindere dalla posizione abbiamo 21 euro in ethereum, punteggio maggiore di 250, 42 euro e poi per le posizioni vedete questo è il risultato, questa è la classifica finale. Il primo posto tiene 1000 euro e una star rare, che è una carta rara di alto livello e a scendere c'è sempre la star rare ma diminuisce il premio in ether. mentre per le posizioni un po' più basse abbiamo delle rare di livello minore. Vi ricordo che tutte queste carte poi hanno un valore di mercato quindi di fatto stiamo parlando anche di un premio che ha valore anche quando si acquistano i giocatori si spende magari ma è da vedere potenzialmente anche come un investimento perché con l'ampliarsi della base utenti e comunque se quel giocatore poi si va a dimostrare particolarmente forte questo mercato insomma lo fanno gli appassionati di calcio quindi queste sono le regole che vengono seguite. Se si sale con le divisioni ci sono premi più interessanti ma anche meno partecipanti perché qui abbiamo 3500 partecipanti alla divisione 3 ne abbiamo solo 700 e a salire alla divisione 1 24 perché serve avere tre carte uniche quindi sostanzialmente è molto facile una volta arrivati alla divisione 1 riuscire a classificarsi di fatto e come vedete i premi sono veramente veramente di alto livello perché una star super rare può avere anche lei un valore di migliaia di euro e in più ci sono 2000 euro in ethereum per il primo classificato. Poi ci sono anche altre tipologie di partite di leghe che io al momento non vedo credo perché sono ancora troppo nabbo però se noi andiamo nello storico e vedete che qui cioè io ho fatto gioca ho selezionato la scorsa giornata nella classifica noi possiamo andare a aprire questo menu a tendine e vedere anche le altre leghe nelle quali credo si possono schierare soltanto giocatori europei qui soltanto giocatori asiatici e qua invece soltanto giocatori americani. Poi abbiamo la under 23 che invece è una lega dedicata a giocatori under 23 per l'appunto e nell'andare a vedere le carte lo potete andare a capire subito se un giocatore è idoneo o meno se c'è questo simbolino col 23 perché ha meno di 23 anni. Un'altra cosa che potete fare è seguire uno specifico giocatore mettendoci il cuoricino e quando seguite un giocatore se viene messo all'asto o venduto venite notificati qua in alto a destra dove c'è la campanellina così se vi interessa potete fare un'offerta oppure acquistarlo direttamente. Ora come promesso vi faccio vedere qualche dato ottenuto dal sito sorerdata.com che fa vedere un po' di statistiche generali sul mercato delle carte di Sorer sulle leghe eccetera eccetera insomma ho varie tipologie di dati non so neanche probabilmente interpretarli tutti ma in ogni caso la cosa che mi interessava di più mostrarvi è come questo mercato sia in crescita perché nonostante il boom che c'è stato degli NFT recentemente vedete che non mostra contrazione cioè il mercato degli NFT in realtà di per sé dopo il boom si sta un po' contraendo se andate a vedere le statistiche generali è un mercato che è un po' in contrazione appunto dopo il grosso boom che c'è stato poche settimane fa un paio di mesi fa mentre Sorer come vedete è un mercato ancora in fortissima crescita quindi dal punto di vista di investimento se un appassionato di calcio e sa comunque capire il potenziale di un giocatore eccetera eccetera cose che io purtroppo non sono in grado di fare sicuramente c'è del potenziale anche semplicemente dal punto di vista di compravendita se poi uno ovviamente ha anche voglia di andare a giocare le leghe e stare dietro a tutto il potenziale è veramente immenso perché è veramente facile andare a ottenere nuove carte nonché nuovi premi qui si può avere un'idea del prezzo a cui vengono vendute in media le varie tipologie di carte vedo che abbiamo un'area di prezzo basso e poi un'area di prezzo alto sopra il mezzo etereum per le carte rare probabilmente dipende un po' dai tire delle carte rare e dai giocatori di cui si tratta poi le super rare stessa cosa ma con un prezzo medio ovviamente più basso più alto scusate come vedete si arriva anche ai 3 ether per carta e se andiamo a salire sulle uniche il prezzo aumenta ulteriormente fino ad arrivare addirittura a 20 ci sono ve l'ho detto dei prezzi anche molto molto alti considerate che questi sono i prezzi attuali e non storici poi qui si può andare a vedere uno storico dei volumi delle aste quante squadre vengono schierate e così via poi andando a vedere questi altri dati ci sono tantissimi tantissimi numeri grafici per andare ad approfondire anche le varie metriche singole i risultati delle squadre e così via poi utili anche a chi gioca in prima persona io vi volevo solo dare una panoramica quindi che dire traendo un po' le somme e le conclusioni ve l'ho detto iniziare è gratuito quindi se vi interessa provarlo così giusto per giocare con il mio referral link vi lascio in descrizione potete avere subito dieci carte comuni purtroppo sono le comuni però potete già schierare la vostra prima squadra nella lega degli starter poi come potete vedere dalla vostra pagina my club che è quella che vi fa un po' vedere appunto i vostri giocatori la vostra squadra potete andare a ottenere una carta rara andando ad acquistare almeno cinque carte però ve l'ho detto una carta rara di fatto è un valore anche interessante perché se andiamo a vedere la rarità appunto rare vedete che il valore può andare dai 20 ma anche alle diverse centinaia di euro quindi insomma è interessante anche da questo punto di vista come vi ho detto ci vedo un duplice investimento possibile da un lato per chi segue il calcio e conosce il potenziale valore dei giocatori poi metteteci anche un po' di speculazione per via degli NFT si può andare a piazzare delle compravendite interessanti andare a valutare quelle che possono essere delle occasioni per poi appunto rivendere a prezzo più alto per chi invece è appassionato di fantacalcio e vuole semplicemente guadagnare andando a competere nelle leghe magari fa un piccolo investimento iniziale che poi potrebbe anche aumentare di valore a fronte dell'incremento delle dimensioni di questo mercato e della domanda e inoltre andare a vincere i premi vincendo le leghe insomma io vi ho voluto presentare questa piattaforma perché me l'avete fatta conoscere voi innanzitutto mi avete scritto in un po' in privato io non sapendo quasi niente di calcio non credo che l'avrei mai notata se non fosse stato per voi però ripeto l'ho trovata interessante sotto questi punti di vista e ve l'ho voluta un po' spiegare e condividere ditemi pure cosa ne pensate se vi sembra una cosa carina se vi sembra una cacata pazzesca insomma ditemi tutto quello che vi passa per la mente nei commenti e io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima